La pandemia fa esplodere gli infortuni sul lavoro in Abruzzo, a dirlo è la CGL che ha registrato il costante aumento delle denunce di infortuni sul lavoro legati alla pandemia di pari passo all'aumento dei contagi. In ottobre in Abruzzo si era arrivati a 857 infortuni covid, più 34% rispetto ai mesi precedenti. Il picco però si era aggiunto a novembre, più 74% con 634 denunce, arrivando così a un totale di 1491 casi. La provincia con i numeri più allarmanti è quella di Chieti, con 417 infortuni covid, seguita da Pescara con 408, Teramo con 379 e l'Aquila con 287 casi. Ma proprio all'Aquila si è registrato il maggior aumento percentuale, 198 infortuni covid solo a novembre, per un aumento del 222%. I lavoratori più esposti sono quelli della sanità, da cui arrivano tre denunce su quattro. Circa il 10% poi arriva dal mondo terziario e dei servizi, quasi il 4% dalle professioni scientifiche e tecniche e l'1,6% dal settore manifatturiero. In Abruzzo coloro che sono morti, dopo essersi contagiati sul posto di lavoro, sono 12. Questi numeri che però riguardano solo coloro che hanno attivato la pratica INAIL, invece di limitarsi a comunicare la semplice malattia IMS, quest'ultimi infatti sono esclusi dal conteggio.